ciao ben ritrovati come state allora e dunque volevo ricordarvi perché ogni tanto mi dimentico che se volete fare un viaggio un piccolo viaggio dentro voi stessi ho preparato dei video intitolati manifesta la tua vita con gli archetipi è veramente un piccolo viaggio che potete fare che io ho preparato per voi costa solo 29 euro quindi veramente pochissimo lo trovate sul mio sito l'angolodiclaudia.com cliccate sul menu e cliccate poi su manifesta la vita con gli archetipi e poi dopo vedete un po di cosa si tratta però è molto carino e soprattutto potete scoprire delle cose di voi che magari non sapete detto questo andiamo a vedere cosa devi sapere adesso ok due varianti la prima variante è il turchese africano che mi è arrivato oggi è arrivata oggi la pietra e la seconda variante è non mi ricordo mai è la pietra nera ma mi sfugge sempre il nome ok quindi mi raccomando molto d'intuito è scegliete molto d'intuito e direi che possiamo partire allora turchese africano andiamo a vedere che cosa devi sapere adesso partiamo dagli oracoli prendiamo una carta delle feminine wisdom era social rituals e prendiamo una carta degli oracoli degli spiriti degli animali che sono bellissime a poche non li uso vediamo abbiamo lo spirito del koala lo spirito ha un piano allora vado a leggervi lo spirito del koala perché anche se già ci dice qualcosa ok però voglio approfondire e poi facciamo un attimo un riassunto di questi due oracoli allora spirito del koala dunque questo spirito dice che ti viene chiesto di fidarti del fatto che muovendoti lentamente avendo fiducia che l'abbondanza è ovunque abbandonandoti a un potere più grande di te sarà in grado di sperimentare la manifestazione del tuo desiderio quindi lo spirito del koala che parla proprio di un piano che va al di sopra della nostra mente della terza dimensione ok dice proprio di fidarti di fare questo atto di fede ok tu hai le tue intenzioni hai i tuoi desideri li manifesti li esprimi e poi ti fidi è un come posso dire è un passaggio che non arriva subito ma quando ti arriva veramente cambia qualcosa quindi questo è il messaggio dello spirito del koala ok il messaggio della dea era che parla di fondamentalmente parla di socializzare probabilmente ti vuole dire che avrai degli incontri ci saranno incontri ci saranno persone che saranno partecipi e saranno protagoniste e complici di questo spirito e di questo piano che c'è per te ok anche se ovviamente adesso non lo sai ancora detto questo mi sembra già un bel messaggio andiamo a vedere con i tarocchi i miei affezionati radiant wise tarot che ormai sono distrutti allora 5 di spade questo 5 di spade mi parla di qualcosa da cui ti stai allontanando o ti allontanerai o di qualcuno o di qualcosa che prende le distanze da te ok mi viene a dire che sei più tu che ti stai allontanando da qualcosa o da qualcuno comunque andiamo a vedere adesso che messaggio arriva abbiamo un 3 di bastoni l'imperatrice e l'8 di coppe ne prendiamo altre 3 sette di coppe giustizia e fante di denari allora sono carte molto belle queste assolutamente molto molto belle ma fondamentalmente questo 5 di spade che fa un po' da sottofondo a queste carte o per lo meno è un messaggio in più e dice che ti stai allontanando ma stai andando verso va verso una abbondanza verso appunto qualcosa che ti porterà abbondanza che quasi per giustizia divina questo piano che c'è per te anche se in questo momento non te ne accorgi ok ci saranno tante opportunità le valierai le valuterai si apre veramente un ventaglio di opportunità per te di tutti i generi parliamo adesso qui proprio a 360 gradi ti avvii verso con l'imperatrice e l'8 di coppe proprio lasci alle spalle in un'energia già di un'imperatrice comunque tutto ciò che non fa più per te ma ti avvii verso una ma stai manifestando l'abbondanza tu perché vieni fuori con l'energia di un'imperatrice quindi sei già a buon punto ok hai già tante opportunità o comunque se scusate questo è Salomone che non conosce annusa il turchese africano qui ci sono sei già in un'energia di abbondanza ci sono già tante opportunità per te c'è una giustizia per te e soprattutto mi chiudi con un fanta di denari che è proprio la classica proposta che ti arriva ok che poi tu scelga quello meno ma non è quello il punto il punto è che questo piano superiore a te si sta manifestando ok sei già in una bella energia perché l'energia dell'imperatrice è un'energia che è già molto consapevole del proprio valore del proprio carisma della propria parte anche creativa e che manifesta già proprio per tutte queste cose l'abbondanza quindi io credo che tu sia molto vicino o vicina a questo a questo bel cambiamento ok ci manca veramente poco se non è già un po' in atto eh perché io qui vedo proprio che ci sono tante opportunità per te tante possibilità fra fra e fra queste per qualcuno c'è anche un trasferimento però ecco è un bellissimo messaggio questo perché sta arrivando per te un'abbondanza che deriva proprio da un piano superiore a quello che puoi anche immaginare tu c'è una devi il passo proprio che magari ti manca è quello di affidarti affidati apriti alle opportunità apriti e affidati perché sta arrivando veramente un bellissimo momento per te bene sono molto contenta ecco io mi dimentico sempre che l'ultima non si vede ecco il fatto di denari bene turchese africano io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci Pietra Nera sta registrando sì allora andiamo a vedere cosa devi sapere adesso qual è il messaggio partiamo da una carta delle feminine wisdom allora abbiamo ifigenia che parla di sacrificio lasciarsi alle spalle qualcosa che vi ha portato sacrificio per trovare quello che è la vostra strada il vostro valore ok però poi approfondiremo adesso prendiamo una carta dagli spiriti degli animali spirito dello scarabeo la magia opera attraverso di te bellissimo andiamo ad approfondire un attimo con il libricino questo spirito dello scarabeo vediamo cosa ci dice in più oltre a questo messaggio chiave allora dunque tu hai lo spirito è molto bella questa carta lo spirito della scarabeo ti ricorda che tu hai un potenziale infinito ok hai un alleato mentre crei qualcosa di nuovo perché lo spirito crea assieme a te quindi è come che tu abbia sempre un qualcosa che ti aiuta un qualcuno che ti aiuta parla di un grande ottimismo che governa questo periodo puoi realizzare qualunque cosa desideri e i tuoi sforzi creativi daranno i loro frutti ci saranno opportunità abbondanza amore che si manifesteranno apparentemente da nulla quindi ragazzi questo è un messaggio meraviglioso c'è arriva proprio quasi un momento magico dopo mi viene da dire mi viene da dire un periodo di sacrificio un periodo un po' pesante dove non eri non ti potevi esprimere non eri veramente te stesso te stessa avevi qualcosa sentivi una sorta di sacrificio o sacrificavi una parte di te mi viene a dire mi viene da dire ok ma qui arriva arriva veramente qualche momento magico allora andiamo a vedere con i tarocchi come se questo sacrificio questa sorta di pesantezza finalmente finisca allora andiamo a vedere con i tarocchi beh guardate un po' dieci di denari ragazzi qui arriva una grande una grande stabilità può arrivare anche una grande felicità di coppia per chi per chi non è in coppia bellissimo questo dieci di denari eh allora andiamo a vedere ancora sette di spade sei di denari e la torre ne prendiamo altri tre questa si è girata è uscita fra l'altro anche anche con la prima variante i tre di bastoni allora ne prendiamo altre due a questo punto prendiamo questa re di spade e la forza uh la la due arcani maggiori uno sopra l'altro allora qui c'è un ulteriore messaggio per te seconda variante o perlomeno per alcuni è un interattivo per alcuni di voi ok allora qui c'è un cambio improvviso riguardo una situazione ok c'è un cambio improvviso riguardo una situazione fatemene prendere un'altra cavaliere di spade allora diciamo che più che altro potrebbe essere questo è una situazione che in tempi rapidi finalmente e così in maniera abbastanza improvvisa va a risolversi ok c'è una sorta di equilibrio fra il dare e il ricevere in questa situazione ok con una determinata persona che non si è comportata bene nei vostri confronti e e c'è però la risoluzione di questa situazione ok questo è proprio un messaggio in più rispetto a tutti quelli che vi ho dato ok è voluto uscire anche questo messaggio ok questo è proprio un messaggio molto netto eh quindi tutte le carte parlano di questo cioè questa stesa parla di una situazione con una persona che non è stata corretta nei vostri confronti una situazione che all'improvviso si va a concludere si va a risolvere ok in maniera veloce una sorta di dare ricevere poi ovviamente bisogna vedere in quali termini ogni situazione vostra personale sarà diversa però c'è una risoluzione ok una conclusione mi viene da dire un'altra cosa che mi arriva però perché mi arriva anche un'altra cosa e cioè che ci potrebbe essere da una parte per alcuni la risoluzione per altri ci potrebbe essere un capovolgimento improvviso di questa situazione ok fatemene prendere un'altra perché non dite niente alla prima variante perché voglio capire ancora di più sette di coppe non vogliono tanto parlare allora diciamo che le chiavi di lettura sono due o c'è all'improvviso in maniera veloce una conclusione di una situazione un po' complicata con una persona che si è diciamo comportata in maniera scorretta nei vostri confronti oppure c'è un capovolgimento di questa situazione sempre in maniera improvvisa ok che può dare spazio a varie opportunità a varie possibilità non opportunità a varie possibilità ok oh ragazzi io non resisto devo prenderne un'altra scusate ma voglio capire ancora poi non sarà per tutti questo messaggio ma per qualcuno sì oh abbiamo le idee un po' più chiare nove di coppe finalmente allora nel caso in cui ma in tutti i due i casi direi sia che ci sia una conclusione inaspettata di questa situazione è comunque mi viene da dire più a vostro favore con questo nove di coppe ok o perlomeno ne uscite vincenti è come che voi abbiate l'abbondanza dentro di voi indipendentemente da questa persona che non ce l'ha ok è una persona che ha ancora un senso di rivalza con questo sete di spade questo re di spade questo cavaliere di spade insomma nel caso in cui ci sia un cambio di come posso dire di scena un colpo di scena mettiamola così ci saranno delle possibilità da valutare ma ne uscite comunque vincenti voi ma vincenti non solo anche alcuni materialmente dal punto di vista proprio esterno a voi ma sicuramente dentro di voi ne uscite vincenti ok scusate vedo adesso che non si vedevano ecco qua scusate ok quindi ne uscite comunque vincenti ok resta il fatto di tutto questo che ho detto ok che vi si apre un momento veramente vi si aprirà soprattutto secondo me dopo questa chiusura di questa situazione vi si aprirà un momento veramente magico dove finalmente questi sacrifici anche legati forse per alcuni a questa situazione questo senso di un po' di costrizione di sacrificio di qualcosa che vi teneva legati al passato ok e vi si apre proprio una arriva questa questa questo dieci di denari questa stabilità questa serenità sia materiale che anche sentimentale mi viene da dire per alcuni di voi quindi è molto bello c'è da chiudere questa situazione per alcuni di voi ovviamente non sarà per tutti questo messaggio ma è in arrivo un momento un periodo veramente bellissimo bene seconda variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao